Amici di Corsi di MotoTV, c'è novità al 50%, lo vedete già Ale del Bianco, ciao Ale. Sempre in blu, sempre in blu, ciao ragazzi, ciao a tutti. Sì, dai, novità al 50% perché è vero, rimani in blu, quindi Yamaha è cambiato il team da Cheopea DMR. Una nuova sfida, ieri parlavamo qui nel paddo, che mi dicevi, c'ho voglia, perché c'era un po' di tempo brutto. L'unico del paddo che aveva voglia, tipo eri lì che scalpitavi, eri tu, 147 giorni senza moto hai scritto. 147 lunghi giorni senza moto, sì, perché dall'ultima gara ottobre sono passati 5 mesi, è stata lunga, è stata lunga, è stata lunga, perciò ieri mattina era bagnato, quasi spiovigginava, la gente no, entriamo, entriamo, certo che entriamo. Andiamo a vedere un po' come è la situazione, perché sai, le moto nuove, è vero che corro con la Yamaha, ma questa è una moto nuova, quindi bisogna rirodarla, rivedere i freni, i cablaggi, un po' tutta la situazione. Quindi anche col bagnato per poi fare i 300 all'ora è un sentimento che bisogna riprenderlo, quindi dai, ci stava. 5 mesi di pausa in realtà, sei andato in letargo dalla stagione 23 con una bella vittoria a Imola, quindi hai chiuso, diciamo, no, in bellezza. Quindi magari, come dici tu, no, anche la voglia di tornare, no, chiuso con la vittoria, ora iniziamo, raga, che so' caldo. Allora, Mingo, devo dirti che pesa meno quando chiudi l'inverno, l'inverno pesa molto meno, però, però sì, dopo, sai, ci ripensi, ci ripensi. Poi a me piace andare in moto, invece in 5 mesi fai palestra, corsa a piedi, palestra, e allora ci vuole un po', no? E quindi la voglia è tantissima e perciò poi, sai, i veri test saranno tra un paio di settimane a Misano. Quindi oggi, alla fine, siamo un po' fortunati di essere qua, quindi la prendiamo un po' come viene, asciutto, bagnato. L'importante è fare qualche chilometro, togliere un po' di ruggine, vedere un po' come è la situazione, rimetterla tutto il casco a 300 l'ora, la testa che si sposta, bisogna anche riabituarsi a queste cose, quindi... Sì, questa è una sorta di grande shakedown, infatti adesso io ti faccio una domanda, prime sensazioni, so che le condizioni sono particolari, magari non si traggono grandi, no, feeling, grande feeling. Però, come ti è sembrata che sia piagionata con la nuova moto, con il nuovo tipico, c'è un po' di roba nuova, ce n'è? Allora, adesso intanto ti do una dritta, la cosa migliore quando sono queste condizioni, perché vanno tutti piano, quindi non hai quell'angoscia di dover andare forte, perché alla fine, quando puoi andare forte vai comunque piano, quindi alla fine hai quella tranquillità di non dover dimostrare niente, perciò sembra, ma in realtà è quasi piacevole. E poi, in realtà, io sono molto contento di questo passaggio di MR, perché è un team con cui collaboro da anni, è stata una famiglia per me per due anni, questo sarà il terzo con loro, anche se abbiamo fatto due anni di pausa nel frattempo, un po' come un fidanzamento che poi non ritorna. La Yamaha la conosco bene, anche se questa è una moto nuova, quindi bisogna ripartire, però alla fine, secondo me, è tutto che positivo, questo sole poi mi fa sperare una buona stagione. E poi mi riallaccio a una cosa che mi dicevi l'anno scorso, prima che inizia la stagione, mi dicevi, beh, insomma, Mingo, io credo nel progetto Yamaha, c'è essere in una famiglia, Yamaha, voglio dire, no, marchio mondiale, e hai visto, e abbiamo visto tutti dove hanno portato Locatelli, ecco, nella testa di un pilota c'è, ok, ci credo, sperando che domani, con i risultati ovviamente, c'è la possibilità di arrivare da qualche parte importante, c'è. Guarda, io sono qui per quello, cioè io ci penso ogni mattina che mi sveglio, questa mattina dall'albergo per arrivare in pista, pensavo a quella roba lì, dicevo, cosa devo fare oggi per far sì che un giorno posso essere in quel posto lì, quindi io adesso, a parte i miei impegni, le mie scuole guide, le mie robe, comunque il mio focus rimane in Yamaha, e sperare di farmi accompagnare da loro nel campionato che più mi piace. Ricordiamolo, il buon DB ha fatto un anno al Mondiale Superbike, con condizioni tecniche un po' discutibili, ma dove avevi messo in mostra da Ruki una grande stagione, quindi io credo che sia anche giusto che tu abbia un'altra chance, e questa probabilmente è la via migliore per arrivarci. Secondo me il 50%, non secondo me, il 50% del paddock è blu, quindi vuol dire che Yamaha ha lo zampino un po' ovunque, e quindi da fuori ho detto, sai, il posto migliore per cercare di far carriere, per inserirmi nel Mondiale, sicuramente è essere blu, e quindi ho colto questa sfida, questo è il secondo anno, ci credo, se andrà bene che riuscirò ad andare, sarò comunque orgoglioso ed è un po' il mio piano. Comunque in ogni caso, alla peggiore delle ipotesi, è comunque una struttura incredibile per fare italiano, quindi comunque dove cadi cadi, cadi in piedi. Stupisci, mi stupisci mi Ale con effetti speciali, quest'anno CIV, qualcos'altro in programma, l'anno scorso sei stupito col debutto nell'Endurance, che si fa quest'anno? Io, Mingo, volevo fare l'Endurance quest'anno, avevo firmato il contratto, purtroppo il team con cui ho firmato ha avuto un problema economico e è saltato, quindi momentaneamente rimane solo italiano, e chissà che magari è la soluzione per inserirsi da un'altra parte nel corso della stagione. Sei pre-etusiasta di dire, sei un grande, col sorriso, via, gas a manetta. Grazie raga, ci vediamo presto.